Talent Lab Adventure, TLA. Molte volte quando vogliamo organizzare un viaggio lo viviamo tre volte. La prima volta attraverso il sogno, la seconda volta viviamo l'esperienza, la terza volta lo ricordiamo. Noi del TLA abbiamo creato un sistema che andrà a rivoluzionare la classica vacanza. In una settimana immersi nelle isole canarie, potrebbe essere Gran Canaria o Fuerteventura, dipende molto dal clima e dipende molto dal tempo. Andremo a lavorare sulle nostre abitudini, sui nostri comportamenti, nello sviluppare nuovi talenti e mettere in atto delle nuove strategie per riuscire a concretizzare i nostri sogni, a renderli reali e concreti. Puoi partire da qualsiasi parte d'Italia. L'importante è che viene alle canarie e noi ti veniamo a prendere direttamente in aeroporto e ti accompagneremo nella struttura. La struttura è composta da vari bungalow, quindi è un residence privato e da lì partiamo. Partiamo insieme, ogni giorno andremo a creare un tour all'interno dell'isola utilizzando i quattro elementi della natura, facendo molte meditazioni e lavorando su di noi ma anche divertendoci. Quindi è un buon momento per crearti una vacanza ma lavorando su degli obiettivi ben specifici per realizzare realmente ciò che vogliamo nella vita. Se sei un dipendente, un libero professionista, un imprenditore oppure vuoi partire da zero, è una settimana molto importante per fare un reset, per rilanciare le tue idee, per avere nuova energia, per avere nuove idee e proiettare le tue visioni nel medio e nel lungo termine. Quindi è una settimana molto molto importante ed è importante che ci sei anche te perché è un evento esclusivo dove ci saranno solo 20 persone, 20 persone selezionate per raggiungere realmente i loro sogni. Ti aspetto alle Canarie!